Buone notizie per il bilancio sociale 2014 di Attiva S.p.A. La società municipalizzata di gestione rifiuti sul territorio di Pescara. Un bilancio che si chiude con il segno più e 26.000 euro di utile. Chiudiamo quindi questo bilancio con un utile di 26.000 euro e di questi tempi è sicuramente una notizia che va contro tendenza. Attiva ha accettato anche una restrizione superiore nel 2016 di altri 150.000 euro e ulteriori 150.000 euro per il 2017. Quindi tempi duri ma nello stesso tempo Attiva parte con un'implementazione della raccolta differenziata. Servizio di pulizia strade, raccolta differenziata, gestione degli stadi e mercati pubblici, interventi per il maltempo. E ora, spiega l'assessore Paola Marcheggiani, si punta ad implementare anche la porzione di differenziata sul litorale. Lo scorso anno sono stati raccolti 174 kg di rifiuti per ogni cittadino pescarese. I risultati che abbiamo presentato oggi sono risultati importanti. Abbiamo predisposto anche il secondo bilancio sociale. Il primo è stato presentato l'anno scorso all'Università d'Annunzio, che nasceva da una collaborazione stretta con il mondo accademico. Quest'anno ci siamo cimentati di nuovo con questo percorso, proprio per dare evidenza di quel valore che l'azienda restituisce al territorio nell'ambito della sua attività, quella della raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti. Grazie a tutti!